Consorzio di Pacino, Comuni Morosi, il commissario Vittorio Esposito interviene sui decreti ingiuntivi ai Comuni, la vicenda va avanti da anni. Ospedale, nuova emergenza medici a luglio, il dottor Pietro Greco lancia l'allarme, il dottor Mandì annuncia l'arrivo di medici ambulatoriali per far fronte all'emergenza. Consorzio sociale, Atena Lucana annunziata dovrà lasciare il posto nel CDA, Vertucci non rivendo i corruoli per me, aperto a valutazioni nell'interesse dei cittadini. Scuola, i presidi non potranno più scegliere gli insegnanti. Polla, ieri sera comunità in festa per i 25 anni di sacerdozio di Don Paolo Lungo. Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Uno News. La vicenda legata ai contenziosi dei Comuni verso il Consorzio di Pacino continua a tenere Banco, soprattutto visti i decreti ingiuntivi inviati dal Consorzio ai Comuni morosi. Si tratta di un debito vantato dai Comuni che sono obbligati a versamento anche per l'invio della regolare fattura. A spiegarci ancora più nei dettagli la vicenda e a illustrarci la situazione attuale, in microfono di Anna Maria Cava, il commissario Vittorio Esposito. Noi da anni stiamo attuando una politica di sollecito da parte nostra verso i Comuni dove dire venite a regolarizzare le vostre posizioni. Però passati anni e anni di nostre emissive che possiamo dimostrare anche pubblicamente dopo reiterati inviti, dopo aver contattato gli uffici preposti, perché non credo che molte volte sia la politica, perché ritengo che quando arriva una fattura i dirigenti di quell'ufficio dovrebbero capire se è una fattura da pagare o non pagare. Se non è da pagare viene contestata la fattura, non è che dopo dieci anni non si ricorda che quella fattura non era da contestare o era da contestare. Probabilmente è passato il tempo e ritengo che sbagliando oggi siamo arrivati all'atto ingiuntivo. Ma ripeto, la mancanza della politica ma anche la mancanza di tanti dirigenti degli uffici di ragioneria che ricevono inopinatamente e mettono nel cassetto le nostre fatture inviate regolarmente, protocollate regolarmente. I Comuni, la parte politica non si è mai opposta ai bilanci, tranne il Comune di Padula che si oppose al bilancio del Consorzio, nessun Comune ha fatto mai opposizione ai bilanci. Quando si vogliono fare opposizione? Si fanno opposizione ai bilanci, si fanno opposizione alle fatture. Io non credo che una impresa, anche privata, possa tenersi delle fatture senza contestarle. Poi ricordarsi, prima della scadenza dei cinque anni, che quelle fatture non sono valide. Noi riteniamo che c'è sempre la possibilità di colloquio con i Comuni, perché noi dobbiamo interagire con i Comuni, sono parte integrante del Consorzio, ma i Comuni non possono pensare che noi abbiamo, come dire, sbagliato. Noi non abbiamo sbagliato, abbiamo fatto il nostro dovere. In sede giudiziaria sarà un giudice terzo, se non arriviamo prima a una composizione, a dire se avremo ragione o torto. Io credo nel 90% dei casi avremo ragione noi. Orientativamente, c'è un'idea di quanto il Consorzio ad oggi ancora attende dai Comuni? Circa 2 milioni e mezzo di euro. Per quanto riguarda questo e per quanto riguarda il Centro Sportivo Meridionale, se parliamo della Ergon, perché io sono comunque il commissario liquidatore della Ergon, però è una società partecipata e ho nominato un altro liquidatore. Ammonta i crediti nei confronti della Ergon a più di 11 milioni di euro e le strutture della Ergon, vorrei ricordare da questo emittente, sono dei Comuni. Non è che in parte sono il 50% oggi della provincia, ma le strutture sono quasi tutte dei Comuni. Allora dico, anche là. Oggi per anni si è parlato di questi operai, ma se questi operai non sono stati pagati, perché molti Comuni hanno ricevuto i servizi, ma non hanno pagato le loro cuote aspettanti. Non si capisce bene che cosa ne hanno fatti i soldi che hanno ricevuto dalle tasse della spazzatura pagata dai cittadini. E in merito proprio alla questione legata all'amorosità del Comune di Atena, il neoeletto sindaco Luigi Vertucci all'indomani del suo insediamento ha aperto subito un dialogo con il commissario Esposito manifestando la piena disponibilità a chiudere il contenzioso in essere e a saldare quanto dovuto dal suo ente. La nostra volontà, ha spiegato Vertucci, è quella di chiudere ogni situazione economica ancora sospesa cercando di saldare quanto dovuto e di veder chiusi i contenziosi non dovuti dal Comune. Non possiamo consentire, spiega il primo cittadino di Atena, che si possa proseguire anche nel futuro con situazioni economiche risolte che pongono l'ente sempre in una situazione debitoria e di poca certezza. Lo dobbiamo ai cittadini affinché non siano in futuro costretti a pagare vecchi debiti con i futuri amministratori in possibilità di adopporsi a situazioni debitorie non dovute. Andiamo avanti, cambiamo argomento, arriva l'estate e si ritorna a parlare dell'emergenza medici all'ospedale Luigi Curto di Polla. A lanciare l'allarme il dottor Pietro Greco che annuncia anche la volontà di ricorrere allo sciopero della fame se non si individuano soluzioni. Il direttore sanitario Luigi Mandia dal cattosuo annuncia l'arrivo di medici ambulatoriali per far fronte all'emergenza. Torna l'estate e si ripresenta la questione legata all'emergenza medici all'ospedale di Polla. A lanciare l'allarme il dottor Pietro Greco, responsabile dell'unità di neurologia di Luigi Curto che dalla pagina Facebook Difendiamo le nostre strutture sanitarie parla del prossimo trasferimento della neurologa attualmente in servizio presso il Curto per assumere l'incarico a tempo indeterminato a Vallo della Lucania. Oltre alla neurologa pare che a breve anche il reparto di geriatria dovrà fare i conti con personale medico ridotto per effetto del pensionamento di un geriatra. Da qui il posto del dottor Pietro Greco che preoccupato anche per il periodo che si sta avvicinando con i medici che avranno diritto a ricorrere alle ferie potrebbe vedere l'ospedale di Polla costretto a dover affrontare nuove criticità. Sempre più medici da pensione, scrive il dottor Greco, ma dov'è il ricambio generazionale? Affrontiamo i mesi estivi in totale emergenza in molti reparti. Credo che occorrano risposte in tempi brevissimi. Il responsabile del reparto di neurologia annuncia anche di essere pronto ad intraprendere lo sciopero della fame qualora non arrivino risposte concrete all'emergenza. Lavorerò fino a che reggerò non assumendo cibi, continua. Non mi sento eroe o migliore di altri, ma spero che altri colleghi dirigenti mi siano vicini perché è l'ospedale di tutti i cittadini. In questi giorni, sottolinea, si riescono a ripetere a malapena posti letto perché è pieno di pazienti che chiedono assistenza. È doveroso rivendicare più personale, più mezzi. Siamo i cittadini di questo territorio. Sul tema interviene anche il dottor Luigi Mandia, direttore dell'ospedale, che manifesta ottimismo. L'emergenza medici è ormai datata. Con il direttore Giordano, sottolinea Mandia, che ringrazio, abbiamo già avviato un percorso di reclutamento di nuovo personale che sono certo proseguirà anche con i commissari appena insediatisi, di cui ho grande stima anche per la celerità con cui hanno risposto alla mia richiesta di personale ausiliare dello scorso 22 giugno. Infatti, spiega Mandia, già domani saranno pubblicate le ore per gli specialisti ambulatoriali per far fronte al momento di emergenza in maniera tale da non lasciare l'ospedale di Polla privo di personale medico. Pertanto non ci resta che ringraziare i commissari per aver dimostrato una grande attenzione verso il nostro ospedale, evitando e risolvendo in pochi giorni una eventuale futura crisi emergenziale per assenza di personale medico, che così non si verificherà. Torniamo invece ora a parlare del Consorzio Sociale Piano di Zona. A seguito delle elezioni dello scorso 10 giugno il CDA dovrà apportare dei cambiamenti. Infatti, ad Atena Lucana ha vinto la lista guidata da Luigi Vertucci, Sergio Annunziata, oggi all'opposizione, pare dunque dover rinunciare all'incarico, ma Vertucci non rivendica il ruolo e chiede una maggiore apertura per una partenza serena dell'ente. Vediamo. A poco più di un mese dalla costituzione del CDA del Consorzio Sociale Piano di Zona sono già invisti i primi cambiamenti. L'esito delle elezioni amministrative impungono un cambio tra i componenti del CDA per il Comune di Atena Lucana, rappresentato al momento da Sergio Annunziata. Le elezioni ad Atena hanno portato ad un cambio alla guida del Paese e l'attuale sindaco eletto dai cittadini Luigi Vertucci, citando l'articolo 27,1 dello Statuto del Consorzio, ha sollevato nell'ultima Assemblea la necessità che il membro del CDA rappresentante del Comune di Atena debba decadere. Una posizione che dovrebbe essere ratificata al prossimo Consiglio. Si torna a questo punto a discutere anche sull'assegnazione del posto in Consiglio che resterà vacante anche a seguito delle dichiarazioni di apertura del neosindaco Luigi Vertucci che nel rivendicare il suo ruolo di rappresentanza della comunità atenese anche in seno al Consorzio ha anche sottolineato la sua assoluta apertura ad ogni forma di dialogo purché finalizzata a consentire una partenza serena del Consorzio che tratta temi di estrema delicatezza. Non conosco, spiega il primo cittadino di Atena, i termini in cui si è giunti alla decisione sui ruoli in Consiglio. In ogni caso, sono disponibili ad una revisione delle posizioni. Il mio obiettivo è solo avere una totale apertura nel poter rivendicare servizi per i miei cittadini, indipendentemente dal ruolo in Consiglio. Per l'importanza e la delicatezza dei temi trattati dal Consorzio, sottolinea il sindaco Vertucci, credo che vada superata ogni posizione partitica al suo interno. Non ho interesse a chiedere il posto per me o altri miei amministratori. Se in ambito decisionale si manifesta una volontà all'entrata in Consiglio di amministrazione di un altro comune valdianese, valutando un allargamento che sia politico, superando quindi le logiche partitiche o territoriale, non sarò io ad ostacolare tale decisione. Ritengo, ribadisce Luigi Vertucci, che su questo tema specifico particolarmente delicato bisogna superare la logica partitica. Pertanto sono aperto a qualunque decisione e il Consiglio voglia assumere in sostituzione del membro di Atene in decadenza. Questa mia posizione, conclude, è finalizzata esclusivamente a far sì che il Consorzio parte in un clima di serenità e collaborazione che nel mio primo incontro non ho avvertito. Andiamo avanti. La Corte d'Appello di Salerno ha condannato il comune di Sala Consiglina al pagamento di circa 110 mila euro in favore degli eredi di una signora per il ritardo di progettazione e gestione dei lavori necessari alla ristrutturazione dell'immobile della donna post terremoto 1980. La notizia è riportata quest'oggi sulla città di Salerno. Andiamo avanti. Alla fine di prevenire il divamparsi di incendi con apposita ordinanza. Il sindaco del comune di Sant'Arzegno, Donato Pica, vieta dal 15 giugno al 30 settembre tutte le attività e tutte le azioni che possano portare ad imminente pericolo di innesco di incendi sul territorio comunale. Periodo 15 giugno al 30 settembre, che è quello indicato come il più pericoloso dalla stessa regione Campania. Andiamo avanti. Cambiamo argomento. Inizia a prendere forma le previsioni del governo di cambiamento. Il primo atto per quanto riguarda l'istruzione è l'accordo tra il MIUR e i sindacati che di fatti cancella una parte della buona scuola e pone fine alla chiamata diretta degli insegnanti da parte dei presidi. Vediamo. Inizia lo smantellamento della buona scuola. Si parte dall'eliminazione della chiamata diretta dei docenti da parte dei presidi. Era un preciso impegno di governo e ora si passa dalle parole ai fatti. Il ministro dell'istruzione, Marco Bussetti, ha siglato con i sindacati un accordo che fisse i criteri per il passaggio su scuola dei docenti titolari di ambito. Il sistema della chiamata diretta applicato nel 2016 e nel 2017 lo scorso anno ha visto meno della metà dei docenti di prima nomina e il 28% di quelli interessati dai trasferimenti selezionati dai dirigenti scolastici. Sono dati che non consentono di poter valutare la bontà o meno del meccanismo. La razio per cui l'istituto, uno dei pilastri della riforma renziana, era stato concepito era stimolare una maggiore competizione tra docenti e tra scuole. Accolto con favore da molti dirigenti scolastici è stato ampiamente criticato da altrettanti docenti, temendo che avrebbe potuto portare i presidi ad acquisire troppo potere con il rischio che finissero col circondarsi di personale propenso più al servilismo che preoccupato della propria formazione e quindi del servizio reso agli studenti. Il problema è presto risolto e il meccanismo è ora disapplicato. Non viene modificata la legge 107 del 2015 ma si procede tramite un accordo firmato dal Ministero dell'Istruzione guidato da Marco Bussetti e i sindacati CGL, CISL, UIL e GILDA. Si mette fine così alla discrezionalità e si rende oggettivo il passaggio dall'ambito alla scuola. In pratica si assegneranno le sedie ai docenti mediante graduatorie utilizzando i punteggi delle domande di trasferimento. Con l'accordo sindacale, dichiara il Ministro Bussetti, si dà attuazione ad una precisa previsione del contratto del Governo del Cambiamento, sostituendo la chiamata diretta, connotata da eccessiva discrezionalità e da profili di inefficienza, con criteri trasparenti e obiettivi di mobilità e assegnazione dei docenti dagli uffici territoriali agli istituti scolastici. Andiamo avanti, i trasporti. Il Comitato Pendolari Vallo di Diano scrive una lettera dopo aver appreso novità sulla tratta che collega Eboli e Napoli, che prevede dal 2 luglio un'aggiunta di percorrenza e di orario. Il bus infatti si fermerà alla stazione di Contursi Terme. Previsti disagi agli utenti particolari nel servizio. Con una lettera all'assessore al turismo dell'aggiunta regionale della Campania, Corrado Matera, al consigliere delegato alla mobilità per la provincia di Salerno, Paolo Imparato, al presidente della comunità montana Vallo di Diano, Raffaele Accetta, al presidente del Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pellegrino, e ai sindaci del Vallo di Diano, il Comitato Pendolari denuncia lo scippo istituzionale dopo aver appreso che bus sostitutivi di andata e ritorno delle linee veloci tra in Italia, Pereboli e Napoli, a partire dal 2 luglio subiranno un'aggiunta di percorrenza e di orario. Da quella data sarà infatti possibile effettuare la fermata dei bus alla stazione di Contursi Terme. È stato uno scippo istituzionale, dicono i pendolari nel Vallo di Diano. L'autorizzazione è stata concessa senza alcun preavviso, senza alcuna consultazione, senza alcuna condivisione. Maggiori disagi saranno causati non solo ai lavoratori e agli studenti che quotidianamente si spostano su Eboli, Battipaglia, Agropoli, Salerno e Napoli, ma andrà a vanificare quanto di buono è stato fatto per incentivare l'interscambio con i visitatori dei siti culturali, ambientali, religiosi, valigiani e con gli usufruitori delle coincidenze con i Freccia Rossa, Italo ed Autolinee Ministeriali su Salerno e Napoli. Il Comitato è preoccupato sul fatto che si verificherà una carenza notevole di posti a sedere, a discapito di chi è costretto a fare quella tratta tutti i giorni. Potrebbero verificarsi disagi laddove gli utenti non potessero salire a bordo per carenza di posti mentre si allungano le attese e le corse diventano più anticonomiche. Il servizio rallenterebbe e si correrebbe il rischio di perdere le coincidenze. Le corse, come accertato, scrivono i pendolari, viaggiano al limite della capienza e la ristretta disponibilità di posti a sedere renderà molto difficile soddisfare un'ulteriore richiesta. Tutto ciò alimenterà frizioni, ostracismi e disagi tra gli utenti. I componenti del Comitato fanno appello allora alle autorità perché salvaguardino gli interessi del Vallo di Diano. Andiamo avanti. La Lega Vallo di Diano è intervenuta sulle recenti dichiarazioni dell'On. Piero De Luca in visita sabato scorso nel Vallo di Diano e dell'assessore regionale al turismo, il Corrado Matera, che entrambi rispettivamente hanno annunciato da un lato l'impegno per la riapertura del Tribunale e dall'altro per la riattivazione della tratta ferroviaria siciliano-Lago Negro. Il coordinamento territoriale della Lega è intervenuto in merito alla visita dell'On. Piero De Luca nel Vallo di Diano. In una nota stampa, la Lega Vallo di Diano attacca il Partito Democratico e l'On. Piero De Luca in merito in particolare alla vicenda della soppressione del Tribunale di Sala Consilina, arrivata durante il governo a guida PD. I referenti della Lega ricordano come, ai tempi della chiusura del Tribunale, gli stessi esponenti del PD siano stati latitanti ai sit-in. Ci fa piacere, spiegano nella nota stampa, la disponibilità dell'On. De Luca a collaborare con la forza di governo della Lega a favore del Tribunale e del carcere, temi particolarmente cari al nostro territorio. Vogliamo ricordare però che in occasione di tali battaglie non abbiamo visto nessuno degli onorevoli che oggi si spacciano per difensori di questo territorio durante i sit-in. La perdita del Tribunale, in base all'attuazione della revisione della geografia giudiziaria, è avvenuta nel 2013 durante il governo Letta, con il PD, forza di governo. Probabilmente, sottolineano dalla Lega, si potevano impegnare meglio prima. Ora vogliono intervenire? La Lega Vallo di Diano interviene anche sulle dichiarazioni dell'assessore regionale Corrado Matera su una eventuale riattivazione della tratta ferrata Sicignano-Lago Negro. Ci fa piacere, scrivono dalla Lega, che il nostro compaesano onorevole Matera abbia ancora una volta rispolverato il cavallo di battaglia elettorale del ripristino della ferrovia, con poco successo e soprattutto con poca originalità. Onde evitare che anche questo annuncio cada nel vuoto, continuano, volevamo invitare l'assessore regionale a esibire, qualora lo abbia, uno studio di fattibilità, con concrete possibilità di riattivazione della tratta ferroviaria e di farne partecipi tutti noi, i suoi concittadini e quanti sono interessati alla tratta. Questo non vuole essere un attacco ai due onorevoli, concludono, ma solo una risposta per far capire che in virtù degli ultimi risultati elettorali è evidente che la gente vuole fatti concreti e non le solite passerelle allietate dalle solite chiacchiere e promesse. Restiamo a disposizione per qualsiasi collaborazione a difesa di questo territorio che, finché ci sarà anche una sola speranza, ci batteremo per ridargli dignità. Proseguiamo, l'ufficio postale di Sant'Arsenio su comunicazione della sede di Sala Consilina resterà chiuso per 12 giorni lavorativi a partire dal 13 luglio prossimo. La chiusura è necessaria per consentire alcuni lavori di adeguamento normativo. In quei giorni gli utenti potranno far riferimento all'ufficio postale di San Pietro al Tanagro. E intanto la filiale di Sala Consilina comunica anche la rimodulazione dei giorni di chiusura degli uffici postali nel periodo che va dal 18 giugno al 28 agosto. Sala Consilina Centro serverà la chiusura pomeridiana nei giorni 13, 14, 16 e 17 agosto. Sala Consilina Sant'Antonio 18 e 25 giugno, 7, 16, 23 e 30 luglio, 6, 7, 13, 14, 20, 21 e 28 agosto. Sala Consilina Trinità 23 e 30 giugno, 14, 21 e 28 luglio e 11, 18 e 25 agosto. Noi ora chiudiamo così la prima parte delle Uno News e ci vediamo subito dopo la pubblicità per il resto delle nostre notizie. Seconda parte dell'edizione serale delle Uno News. Ripartiamo da Salerno dove ieri sera presso la Sala del Gonfalone si è tenuto l'incontro in cui sono stati presentati i risultati del progetto benefico organizzato in collaborazione tra i Rotary Club Salernitani, la Banca Montebruno e il Comune di Sant'Artenio, la Virgo Music e la TEDA. Appuntamento principale il concerto di Uto Ugi. La Sala del Gonfalone del Comune di Salerno ha ospitato ieri un incontro finalizzato a presentare i risultati del progetto di beneficenza che ha visto insieme tutti i Rotary Club Salernitani, il Comune di Salerno, la Banca Montebruno, la Virgo Music e la TEDA e che ha visto la presenza di uno dei più grandi violinisti del nostro secolo, Uto Ugi. Un concerto di grandissimo spessore che ha visto protagonista la città di Salerno ma anche i giovani musicisti salernitani che grazie all'iniziativa benefica coordinata dalla direzione artistica del maestro Franco Vigorito hanno potuto incontrare personalmente il maestro Uto Ugi prima del grande concerto benefico che si è tenuto lo scorso 11 aprile. Un progetto musicale di grande valore è particolarmente apprezzato dal vice direttore generale della Banca Montebruno e il dottor Cono Federico che a nome dell'Istituto di Credito ha espresso il suo orgoglio e la sua soddisfazione nell'aver avuto modo di contribuire ad un'iniziativa di così alto valore sia sociale che culturale, complimentandosi con gli organizzatori anche per lo spirito di unità e collaborazione con cui è stato realizzato. Il dottor Federico è ricordato anche come la Banca Montebruno si avvicina a tale tipo di iniziative, riportando come esempio quanto fatto in tal senso nel Vallo di Diano ed ha sottolineato la disponibilità a proseguire nel sostegno alle iniziative benefiche. Il progetto musicale, infatti, come spiegato ieri dal presidente del Rotary Club Salerno Oeste Antonio Vairo, ha puntato sulla raccolta fondi da destinare alle attività benefiche. Un risultato più che soddisfacente è quello presentato ieri dal presidente Vairo con circa 12.000 euro raccolti, di cui 10.000 saranno destinati alla Caritas per la mensa dei poveri e 2.000 saranno invece consegnati al Rotary Foundation per attività umanitarie internazionali. Al tavolo dei relatori erano presenti il sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, il maestro Franco Vicodito e la Caritas. Soddisfatto anche il primo cittadino di Salerno Vincenzo Napoli che ha evidenziato come questo evento sia stato sospinto da una forte logica di rete regalando alla città un concerto di enorme pregio unendolo all'aspetto della beneficenza in una forte concordanza di intendimenti tra tutti fattore che nobilita un'intera città. Rientriamo nel Vallo di Diano, ieri sera appò la grande festa presso il centro sociale Don Bosco adiacente alla chiesa di San Pietro per i festeggiamenti in onore di Don Paolo Longo per i suoi 25 anni di sacerdozio. La comunità è in festa, presente anche Sua Eccellenza il Vescovo Monsignor Antonio De Luca. Sono grato alla comunità e al Signore che mi ha donato questa comunità. Certamente anche Gesù nel confronto di quando gli dicono tua madre e i tuoi fratelli ci cercano ecco Gesù risponde chi è mia madre e chi sono i miei fratelli. Chi fa la volontà del padre mio, costui è mio fratello, mia sorella e mia madre. Ecco allora questa famiglia diventa la famiglia dei fratelli e delle sorelle che si ritrovano insieme nell'ascolto della parola del Signore e nella vita della fratellanza, dell'amore di sentirsi fratelli e sorelle. Sono passati 25 anni, cosa ricorda di questi 25 anni e cosa ricorda dei primi giorni da sacerdote? È difficile fare un riassunto in un flash, però devo dire che la cosa più bella che ricordo è la presenza della gente, della comunità, sia del mio paese di origine, Bello Sguardo, e sia anche di Polla e anche di Petina dove sono stato anche parroco per sei anni. L'occasione di un momento giubilare per noi è anche opportunità per riflettere sulla strada fatta, sui percorsi avviati, sulle nostre anche fragilità e soprattutto alimentare la consapevolezza degli impegni e delle responsabilità. Vogliamo riproporci agli occhi della nostra comunità come preti della ferialità, della normalità, che si fanno annunciatori del primato di Dio, della dignità della persona e dell'amore ai poveri. Spostiamoci nel Cilento dove continua ad essere terra di riproduzione di una determinata specie di tartaruga, la caretta caretta. Sulle spiagge di Palinuro è stato segnalato il primo nido di quest'anno e ad agosto è prevista la schiusa delle uova. Le spiagge del Cilento si confermano ancora una volta uno dei luoghi privilegiati per la riproduzione della caretta caretta grazie alla qualità delle loro acque. Infatti è stato segnalato il primo nido di quest'anno lungo la spiaggia di Palinuro, nel comune di Centola, a fare la scoperta un bagnante che alla vista delle uova ha subito provveduto a delimitare l'aria con delle canne, in attesa dell'arrivo sul posto degli esperti. I volontari delle associazioni locali, l'EMPA e i biologi del centro Antondorn di Napoli, attraverso alcuni controlli, hanno potuto confermare che in effetti sotto la sabbia una caretta caretta aveva diposto le uova. Ora il nido sarà costantemente monitorato fino alla loro schiusa, prevista per la seconda metà del mese di agosto. L'individuazione del nido è stata possibile grazie alla campagna di sensibilizzazione e monitoraggio delle spiagge alla ricerca dei nidi di caretta caretta avviata già lo scorso anno. Infatti non è la prima volta che questa splendida tartaruga marina scelga i litorali della costiera cilentana per nidificare. Nel corso di più estate si sono verificati eventi simili, addirittura nel 2016 c'è stato un piccolo record di nidificazioni, sei nidi di tartarughe marine stimati sui nidi delle località premiate con le cinque vele di lega ambiente tra Acciaroli e Marina di Camerota. La nidificazione della tartaruga marina sulle spiagge cilentane e in generale sulle tante spiagge italiane rappresenta un evento di grande valore scientifico e conservazionistico. Per questo è importante puntare sui progetti di salvaguardia e di tutela di questa specie a rischio estinzione. L'idea è nata una sera quando stavamo presentando l'album degli Ivas, una band di Teggiano. Parlando con altri componenti del forum ci siamo detti che sarebbe stato bello mettere a disposizione di tutti le esperienze artistiche del territorio. L'obiettivo era quello di fornire una foto di un'attività artistica nella quale credere e che abbia a che fare con la creatività e che non sia usuale. Sono le parole di Giuseppe Luisi a nome del forum dei giovani di Sala Consilina su Vallo a Scoprire, l'ultimo impegno a cui si stanno dedicando i componenti della realtà salese per far conoscere la produzione artistica locale, un contest legato ai giovani artisti. Prima la fruizione delle attività artistiche era molto più complicata e complicato era ricevere un feedback importante, prosegue Giuseppe Luisi. Oggi è una serata che a protagonisti, i figli di questa terra, riempie i tavoli. I loro nomi hanno un riscontro e vogliamo promuovere la loro attività affinché siano ancora più conosciuti, perché siano ancora più raggiungibili. I giovani del forum sono sempre più positivi e propositivi e anche attraverso le diverse iniziative la partecipazione si è incrementata e chi si iscrive al forum partecipa in maniera qualitativa perché si dà un valido contributo ai progetti. Vallo a Scoprire si innesta in un desiderio che abbiamo già affermato in passato, in idee, lanciata qualche tempo fa come in Stocca. Per mettere in evidenza l'importanza di stare qui, rivalutare i posti e i centri storici, dice ancora Giuseppe, Mettiamo sempre in campo i nostri desideri, le nostre passioni, che vanno anche fuori della sfera comune. Anche Spazio d'Arta, Sala Consilina, è un esempio di co-working, spazio living, area di registrazione e noi proveremo a raccontare le esperienze del posto. Intanto il forum sabato scorso ha incontrato l'assessore all'ambiente, Vincenzo Carofalo, per avviare insieme la Commissione Ambiente, che monitorerà l'area salese, pronto anche il nuovo logo, realizzato da Arcangelo Casale, emerso dal contest lanciato qualche settimana fa. E termina qui il nostro Tg, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. Grazie per aver guardato il nostro canale.